Olio di semi reso simile all'olio extravergine di oliva con l'aggiunta di sostanze come clorofilla e beta carotene ottenendo un alto profitto illecito. Così una frode scoperta dal NAS di Firenze tra Toscana e Puglia che ha portato all'arresto ai domiciliari di due persone a Cerignola e a Monte Spertoli in provincia di Firenze per riciclaggio e ricettazione di ingenti quantità di olio di semi etichettato fraudolentamente come olio extravergine di oliva. Ad altri due soggetti di Impruneta e Castelfiorentino è stato notificato il divieto di esercitare l'attività imprenditoriale del commercio di prodotti alimentari per sei mesi. Nell'inchiesta coordinata dalla Procura di Firenze ci sono altri dieci indagati, in totale quattordici le persone, tra cui sette prestanome. Le indagini sono state nelle province della BAT di Firenze, Foggia, Pescara, Pisa e Prato. L'olio di semi veniva modificato con sostanze non dannose per la salute in Puglia e immesso nei circuiti commerciali toscali del settore alimentare, bar, ristoranti, panifici e grossisti. Nelle indagini del NAS di Firenze, a cui hanno collaborato i NAS di Foggia e i carabinieri dei comandi provinciali di Firenze e Foggia, oltre a personale dell'Istituto Centrale Repressione Frodi, è stato documentato il flusso di 50 tonnellate di olio sofisticato di cui sono state sequestrate 16 tonnellate per impedirne l'illecita commercializzazione. Inoltre sono stati individuati i depositi dove l'olio veniva stoccato in attesa di essere venduto. Tra gli interventi c'è stato il sequestro a Firenze di un autocarro con 5.500 litri di olio modificato, mentre andava a rifornire un'attività della ristorazione. Sempre le indagini del NAS avrebbero riscontrato che i presunti prestannome indagati avrebbero contribuito a sviare le indagini, in particolare avendo permesso l'uso del marchio di loro società, peraltro risultate inesistenti o non più operative, da parte dell'arrestato di Cerignola, che realizzava materialmente la sofisticazione, ed il confezionamento di lattine e bottiglie di olio, apponendo le etichette di quelle stesse società.